Ciao e benvenuti, il regista Joss Whedon rivela alcuni dettagli su Avengers Age of Ultron, ve ne parlo dopo il video. Ma insegnami, io voglio fare sul serio e tu sei la cosa più vicina a un vero supereroe, aiutami. Non sei stanca di essere sempre sola? Non vuoi che qualcuno sia lì per te? Che un amico ti guardi le spalle? E farai tutto quello che ti dirò? Sì, tutto. Colpiscemi. Sei una ragazzina di 15 anni? Ma sei scema? Se fai la fichetta le prendi da fichetta. Molly! Il regista di Avengers Age of Ultron, Joss Whedon, durante il Comic Con 2013 di San Diego, ha rilasciato dichiarazioni importanti riguardo l'atteso sequel. Il titolo sarà appunto Avengers Age of Ultron e uscirà nelle sale il primo maggio 2015. Il film però non sarà un adattamento dal fumetto scritto da Brian Michael Bendis, bensì una nuova storia sviluppata da zero e, cosa non banale, non includerà il personaggio di Ant-Man e Thanos. L'atteso sequel sarà ambientato in varie zone del mondo e darà più spazio al personaggio di Hawkeye, Occhio di Falco, che sarà interpretato da Jeremy Renner. Le novità saranno quindi tantissime e noi cercheremo come sempre di tenervi aggiornati. Iscrivetevi al nostro canale YouTube se volete restare aggiornati sugli ultimi trailer in uscita. E noi ci vediamo alla prossima!